Ben ritrovati cari amici telespettatori, io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo e oggi parleremo di privacy e lo faremo con Elena Bianchi, benvenuta. Buongiorno, salve a tutti. E noi ci vediamo dopo la sigla. Ben ritrovati in studio, dicevamo, l'avatar digitale di Gabriele Gobbo che sono io con Elena Bianchi, esperta di privacy e mondo digitale, benvenuta. Grazie, è un molto piacere essere qui. Allora, insomma, parliamo di privacy spesso, tutti i cittadini ne sentono parlare, lo vedono sui siti web, questi banner enormi che sembra che ci tutelino la privacy, invece parlano di cookie, insomma, è un po' un bel casino. Però cercheremo di affrontare questa cosa con Elena, che proprio di lavoro fa questo, lato piccole e micro aziende. Ma prima di dare consiglia alle piccole, piccole, piccolissime aziende, piccoli imprenditori, alle medie imprese, ma cos'è questa privacy che vediamo ogni giorno? Beh, diciamo che è una cosa abbastanza fondamentale. Si tratta di proteggere un diritto fondamentale della persona che è quello alla riservitezza e alle proprie informazioni. Nel mondo digitale in cui ci troviamo adesso sono tutti a caccia di sapere quello che facciamo, cosa ci piace, dove andiamo, perché ci andiamo, in modo da poterci offrire moltissimi servizi. Ecco, spesso potrebbe essere utile non rivelare tutte queste nostre informazioni, o meglio, sapere che queste informazioni vengono raccolte e che cosa ne viene fatto. Perfetto, quindi abbiamo capito che siamo fatti di dati, perché ovviamente la persona, la parte fisica, le braccia, le mani, insomma i vestiti, ma poi dietro ci sono un sacco di dati nostri, quindi in realtà vivendo sia online che offline continuamente, senza capire quando siamo su internet o meno, insomma è tutto un grande purpurì, siamo fatti di dati. E le piccole aziende, insomma, come devono trattare questi dati? Ci sono leggi sempre più stringenti, ormai ne parlano tutti, il GDPR, anzi il GDPR, questo regolamento europeo sulla privacy. Ci sono delle incombenze per le piccole aziende, riusciamo a dire quelle più basiche, magari in maniera abbastanza semplice, come di consettudine su FVG Tech? Beh, diciamo che per le piccole imprese sotto i 200 dipendenti le cose sono meno stringenti, però è necessario che tutti sappiano che esiste questo regolamento e che in qualche modo bisogna fare un po' una mappa di quali sono i dati personali di altri che noi gestiamo in azienda e quelli che possono essere dei dati particolari che necessitano di misure di protezione, come ad esempio i dati sul personale. Questo spesso lo si sa già perché in parte sono comunque informazioni che si ritengono riservate, ma poi sono tutelate anche da altre leggi e quindi tendenzialmente rispetto al personale le cose vengono già fatte, sono rese già normali. C'è da tenere presente che alcuni mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, tipo il GPS, i dati relativi alle posizioni o i controlli che possono essere fatti attraverso gli strumenti digitali, la mail, l'accesso a internet, queste cose qua, che per soprattutto i titolari di azienda possono sembrare utili, come dire, per sapere un po' quello che fanno le proprie persone, ecco, non possono essere trattati con tanta disinvoltura, c'è bisogno di informare le persone. Ma quindi ogni azienda in realtà gestisce una quantità di dati personali, sia chiamiamoli segreti o sensibili o particolari, forse oggi si chiamano, sia quelli più normali come nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail, eccetera. E quindi davvero c'è una mole di dati che è meglio mettere in ordine per riuscire a seguire meglio le regole. Ma poi ci sono anche i dati dei clienti, quindi davvero abbiamo un calderone di dati incredibili. E se li lasciamo lì nel calderone e giriamo, possiamo prendere delle multe, possiamo... Magari non succede, ma se qualcuno decide di arrabbiarci perché ha i suoi dati, magari fa una segnalazione, quindi la piccola impresa sarebbe meglio che mettesse, come hai detto tu, ordine. E come può farlo? Da sola. Ce la può fare magari seguendo qualcosa su internet, prendendo questo famoso DPO che è responsabile dei dati, con dei consulenti. Insomma, siccome c'è tanta roba, tanta ciccia, come possiamo aiutare queste aziende? Secondo te parliamo di quelle piccole che sono i nostri telespettatori più numerosi. Beh, sicuramente una piccola consulenza con esperti in materia. Ci sono sia degli studi legali che anche delle aziende di consulenza che fanno questo di mestiere per far dare un'occhiata a quello che c'è in azienda è utile e lo consiglio. Perché c'è da sapere che sebbene appunto le aziende sotto i 200 dipendenti non abbiano grossi obblighi, uno rimane comunque sempre valido. Se un'azienda subisce un data breach, ovvero... Fermi, fermi, fermi. Un cosa per i nostri telespettatori? Una violazione dei dati. Una penetrazione, un furto di dati. Sì, oppure quelli che si conoscono, già in molti casi un ransomware, per cui tutti i computer vengono bloccati e viene chiesto un riscatto per poterli rilasciare. Ecco, quando succedono queste cose è obbligatorio fare una segnalazione al garante e questa segnalazione deve essere fatta entro 72 ore. Se questo non avviene, si è passibili di multe. Allora può darsi che se questa cosa non viene fatta magari il garante non lo viene a sapere, però se per qualche motivo l'interesse di qualche giornalista o qualcuno che fa una segnalazione l'informazione è che l'azienda è stata, come dire, hackerata arriva anche all'autorità, allora l'autorità potrebbe mettere il naso e... Elena, oggigiorno non esiste niente di segreto, no? Fra la rete, fra i social, insomma, è sempre meglio seguire le regole perché alla fine, magari sembra sempre un costo, no? No, un altro adempimento, un altro consulente, ma in realtà ce lo dicevamo fuori onda, è un investimento perché sono le solette cose che non succedono, ma se succedono, quindi è meglio, anche forse, per rispetto dei dipendenti, ma anche dei clienti, può diventare una leva di marketing, diventare un'azienda virtuosa nella protezione privacy e dati dei clienti, perché potremmo essere scelti dai clienti al posto di un'azienda che magari non fa questo lavoro. Può essere una cosa così importante che sposta gli equilibri, secondo te, del rapporto con i clienti? Sicuramente sì, vediamo Apple che ha puntato molto su questo, le pubblicità che fa e molti altri grossi player si stanno in qualche modo adeguando. Io dico solo che per un'azienda non tanto grande, che non fa particolare uso di marketing, sfruttamento di dati, la cosa potrebbe essere anche molto semplice, capire quali sono i dati che gestisce, come li gestisce, preparare un po' di informative in modo da, come dire, abilitare un po' di trasparenza, si diventa più simpatici se si dicono le cose come stanno. E allora, per dire le cose come stanno, andiamo un po' più sul tecnico, si pensa sempre alla privacy, alla e-privacy, cioè quella elettronica come la spunta sul form di contatto, metto la spunta, accetto la privacy e lì finiscono gli adempimenti dell'azienda. Ma in realtà, la gestione della privacy in azienda, scusate un po' i tecnicismi, non significa il sito web messo a posto, significa tutti i dati che ho nell'azienda, cioè proprio, cioè che potrebbero essere le fatture stampate dentro un folder che contengono i dati dei clienti, cioè, c'è tutto, dentro l'azienda si vive di dati, ed è qui che entra davvero in gioco la gestione dei dati, non è solo spunta sul sito, finisce la privacy. Certo, non è solo quello, ma a proposito di queste spunte, secondo me è interessante sapere che con il nuovo regolamento non sempre le spunte sono necessarie, perché alcuni tipi di dati, ad esempio quelli necessari per stipulare un contratto, per fornire un servizio, quelli essenziali, è possibile trattarli senza ottenere il consenso, e quindi non è neanche necessario, come dire, conservare il consenso, ottenere traccia di quelli che sono stati, e quindi, appunto, un piccolo approfondimento con qualcuno che ne sa, potrebbe anche rivelarsi utile per scaricare un po' di adempimenti, o anche per tranquillizzare eventuali coscienze. Ma ascolta, si possono scaricare, passatemi il brutto termine, anche un po' di responsabilità, cioè nel senso, se io delego, cioè nomino un responsabile dei dati personali, sarà la sua responsabilità controllare che l'azienda li gestisca bene, ho capito male? Non proprio, la responsabilità, il titolare ce l'ha sempre, il DPO, quello che è responsabile della protezione dei dati, è una figura un po' terza, fa come da consulente, è il consulente, e quindi, certo verifica che tutto sia a posto, però lo comunica, ed è sempre il titolare che deve in qualche modo agire. Quindi, i consulenti, i responsabili, il DPO sarebbe responsabile dei dati, ma lui dice, attenzione, c'è una criticità, se poi il titolare o l'amministratore delegato, chiunque ne abbia potere, non interviene, non è in capo al DPO. per fare, scusate una parte tecnica, ma escono degli argomenti, c'è tanto da dire. Allora, prima di tutto, siamo a metà puntata, Elena, ti richiameremo sicuramente, perché ne abbiamo tante da dire. Ma quindi, in azienda, ogni dipendente, in teoria, gestisce dei dati, cioè, come funziona? Possiamo fare dei corsi ai dipendenti, cioè, come possiamo gestirlo? Certo, queste sono quasi degli obblighi, in realtà, tutti i dipendenti dovrebbero essere formati per conoscere, almeno, i dettagli base, i principi base della norma, e, tutti i dipendenti, in qualche modo, sono responsabili di quello che fanno. Certo, non rispondono direttamente di fronte alla legge, alle sanzioni amministrative, risponde il titolare, però, è il titolare che li deve incaricare e istruire e fargli sapere quello che possono fare e quello che non possono fare. Tutti, comunque, agiscono. Certo, perché la segretaria guarderà i dati dei clienti o dei dipendenti, chi fa le buste paghe vedrà altri dati, ma anche il magazziniere che deve firmare delle bolle, che ne sono, insomma, ci sono un po' di dati dappertutto, ma come mai? La legge non dice fai questo, fai questo, e fai questo, ma dà quasi solo dei consigli. Io sento sempre dire il regolamento europeo sui dati personali dà delle cose da fare secondo coscienza, quasi. Mi spieghi un po' questo concetto che è un po' dove stanno andando le nuove regolamentazioni, cioè, fai il meglio che puoi in base a quello che ti serve. Certo, infatti volevo proprio arrivare qui e secondo me questo è un ottimo punto del regolamento, perché non dicendo esattamente punto per tutto quello che si deve fare, lascia spazio al ragionamento e anche, come dire, alla capacità di accettare e prendere rischi. e anche in caso di verifiche il ragionamento che sta dietro a una certa azione, a una certa presa di posizione viene tenuto conto e questo fa sì che le cose non siano come dire, obbligatorie e pesanti per tutti allo stesso modo. Certo, uno che tratta solamente dati del personale e dei clienti non è esattamente come Facebook che tratta tonnellate di informazioni di chiunque. O come un ospedale che tratta dati davvero particolari e sensibili. Quindi, se ho capito bene, facciamo finta la protezione dei computer, dei dati dentro ai computer. Una piccola azienda potrà comprare delle attrezzature, dei firewall, così si chiamano, e fare un'infrastruttura piccola di un certo costo mentre un'azienda con dati più importanti eccetera dovrà fare un altro investimento. Grazie a questo metodo di fare il regolamento non è che ci dicono tu devi comprare un firewall da 15.000 euro. Saranno i tuoi consulenti a dirti prendine uno da 300 euro. Faccio cose a caso però mi piace questo approccio. Tu come proprio operante nel settore dei dati personali come esperta proprio di privacy trovi che sia una buona strada su cui continuare a fare i regolamenti? Sicuramente sì, sì perché certo c'è molto spazio all'interpretazione e quindi alcune volte uno ha altre preoccupazioni e dice ditemi quello che devo fare io lo faccio però questo appunto non può prendere in considerazione tutti i casi e molti casi sono simili però ognuno ha le sue particolarità noi in Italia lo sappiamo bene questo. Certo soprattutto perché il tessuto produttivo è enorme sfarcettato insomma è un bel un bel malloppo di tipologie di aziende ma lato cliente io in teoria cosa devo aspettarmi perché una persona dice io non voglio niente da nascondere che facciano dei miei dati quello che vogliono e poi comunque continuano a telefonarmi tutte queste aziende per la pubblicità al di là che ragazzi non tutto è legale ed è impossibile installate quelle app che bloccano i numeri sconosciuti strani bene un cliente cosa deve aspettarsi cosa potrebbe aspettarsi da un'azienda che opera bene con i suoi dati beh sicuramente ricevere delle informazioni semplici e chiare su quelle che sono gli utilizzi che verranno fatti dai miei dati e oltre a questo come eventualmente fare per sbettere di ricevere email se uno non vuole ricevere email e soprattutto una volta chiesta di non ricevere più informazioni il fatto che queste informazioni non vengano più mandate essere disponibili al contatto con il cliente anche perché non sempre ricevere una pubblicità alla fine si parla quasi sempre di non voglia essere stressato dalla pubblicità una buona azienda se uno chiede in modo semplice di non essere più contattato non devi più contattarlo ma è e invece e tutti gli altri dati ad esempio se un'azienda ha bisogno di dati in più tuoi eccetera io come posso sentirmi sicuro se l'azienda fa o non fa quello che la legislazione dice c'è un modo o devo fidarmi della comunicazione beh le aziende devono rispondere hanno se uno fa una richiesta hanno 30 giorni per rispondere e se la persona non riceve risposte può chiedere l'intervento dell'autorità garante naturalmente l'autorità garante non è che guarda tutte tutte le segnalazioni però succede che se per lo stesso per la stessa azienda riceve diverse segnalazioni allora inizia a prendere mano anzi no in realtà il garante le guarda tutte le segnalazioni certamente mette più più sostanza quando ne riceve diverse per lo stesso argomento lo vediamo recentemente ha combinato una multa di 26 milioni di euro proprio per quelle telefonate che tutti continuiamo a ricevere e non c'è modo di farli smettere 26 milioni di euro non sono pochi ma quindi in realtà l'azienda deve essere all'esposizione se io chiedo che dati miei hai come li stai trattando deve spiegarmelo fine sì 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 deve spiegarlo a 30 giorni di tempo per farlo bene direi che abbiamo snocciolato molti argomenti abbiamo scalfito la superficie richiameremo sicuramente Elena perché ne abbiamo di cose da dire ma soprattutto le abbiamo per proteggere tutti noi e mettere in regola le nostre aziende in maniera semplice perché tutti noi abbiamo diritto di essere lasciati in pace passami questo termine Elena grazie mille davvero grazie a te è stato proprio un piacere allora prima di chiudere fwgtech.it col banner dei cookie da accettare lì trovate tutti i nostri social network ovviamente oltre 100 puntate televisive ma on demand nel momento in cui volete guardarle le puntate radio che facciamo ogni settimana di podcast insomma un bel sito pieno di cose da guardare ancora una volta Elena Bianchi grazie mille di essere stata con noi grazie a te dall'avatar digitale di Gabriele Gobbo è davvero tutto ci vediamo la prossima settimana qui su questo emittente fwgtech un programma di Gabriele Gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali guarda il programma on demand su web youtube facebook e tutti i social network www.fwgtech.it www.fwgtech.it